Si apre con l'ombra della prescrizione il processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa a Ligure precipitata dal sesso piano dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. Secondo i giudici del Tribunale di Arezzo, che hanno accolto l'impianto accusatorio del procuratore Roberto Rossi, la ragazza volò giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. I due giovani di Castiglion-Fibocchi lo scorso 14 dicembre furono condannati in primo grado per due reati, violenza sessuale di gruppo e morte come conseguenza di altro reato, sei anni per ciascuno, tre e tre per i due capi di imputazione. Domani si torna in aula a Firenze, ma un reato potrebbe non essere più punibile o comunque l'estinzione della responsabilità penale potrebbe arrivare in pochi giorni, il prossimo 9 dicembre. Il tentato stupro invece potrebbe non essere più perquisibile alla stessa data nel caso in cui venisse derubricato da violenza sessuale di gruppo ad individuale. Le difese dei due giovani, che hanno chiesto la rinnovazione del dibattimento, comunque, come dichiarato ormai un anno fa, puntano alla soluzione. Sono assolutamente sicuro dell'innocenza del mio assistito. Ci sono tre gradi di giudizio, se ci sono tre gradi di giudizio evidentemente perché i giudici possono sbagliare. E quindi impugneremo la sentenza e andiamo avanti. Sono fiducioso nell'appello.